Eccoci con il Presidente Alessandra Sussolo, buongiorno. Buongiorno a voi. Una bella giornata, almeno finché il tempo ci accompagna. Speriamo che ci accompagni per tutta la giornata perché sicuramente è intensa, lunga e sarà carica di emozioni, di tante attività organizzate, quindi speriamo che il tempo ci aiuti almeno oggi. Il tempo ci accompagni per questo Memorial dedicato a Walter Turco, una presenza che è sempre con noi, ha sempre accompagnato le atlete, una giornata dedicata anche a lui. Assolutamente, sempre vicino a noi, sicuramente ci guarda e ci consiglia anche dall'alto. Siamo alla terza edizione del Memorial Walter Turco, un baster di mini volley che concentra tutte le società sportive delle province di Cuneo e di Asti. Quindi tutti i bambini che giocano pallavolo dai 6 agli 11 anni oggi si trovano qua a Mondovì con noi. Per l'occasione abbiamo lestito oltre a Piazza Monteregale tutta Corsa Italia con una trentina di campi circa, quattro gonfiabili per i fratellini e le sorelline più piccole che almeno non si annoiano e passano la giornata anche loro divertendosi. Sicuramente è stato un grande lavoro tutta questa notte, sia dei nostri volontari sia degli operatori comunali per chiudere le strade e permettere tutto questo che non è stato proprio semplice. Abbiamo oltre 600 bambini e 1500 persone.